Allora, tanto mi scuso che ho fatto ritardo perché mi sono sincerato il nostro team manager che è successo un episodio molto molto spiacevole, però parliamo di calcio, parliamo di calcio della partita. Abbiamo fatto secondo me, a parte i primi dieci minuti che siamo partiti un pochettino a rilento, però credo che poi abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo giocato tecnicamente bene, abbiamo fatto tutte giocate belle, abbiamo avuto tante occasioni da gol. Secondo me ci sono le immagini, stasera ce le vediamo perché sono stati due episodi, sia il gol che è un gol che secondo me la palla è entrata, che determina in questi tipi di partita una partita perché poi sono episodi troppo importanti in una gara come questa. Poi siamo alla seconda giornata, io sono contento di aver visto l'Aquila in questa maniera, sono contento di come ha reagito anche all'1-0 perché poi abbiamo dato pressione al Chiedi, abbiamo avuto tante occasioni, di questi tipi di partite non le riesci a pareggiare forse 1 su 10 perché poi se hai il continuo a giocare in questa maniera credo che la strada è percorsa bene. Bene, dispiace, abbiamo perso perché poi dispiace, però io vado via da Chiedi con una grande prestazione, ho visto una grande squadra, ho visto tante cose belle. Poi, ripeto, se devo appuntare qualcosa alla mia squadra sono i primi 10 minuti che siamo entrati un pochettino a rilento, ma questo è dovuto anche a un problema che avevamo anche l'anno scorso quando incontravamo Campinerba e i primi 10 minuti facevamo un pochettino di fatica, questo è purtroppo un problema che ci dobbiamo lavorare e ci dobbiamo migliorare. Però credo che abbiamo fatto una grande gara. Dobbiamo essere più cattivi in fase di gol perché non è che non siamo arrivati a tirare in porta, noi abbiamo tirato in porta, abbiamo avuto occasioni. Tu mi hai fatto una domanda, ad arginare significa che non arriviamo in aria di rigore, noi siamo arrivati bene in aria di rigore, abbiamo fatto tutto. Ad aggirare, non detto arginare, ad aggirare. Dobbiamo avere più cattiveria nella conclusione e basta perché poi siamo arrivati tante volte in porta, abbiamo tirato tante volte in porta. Forse se devo fare un appunto ancora maggiore è che sull'occasione che la palla è entrata, perché la palla è entrata, un po' più di cattiveria la spinge ancora di più dentro la porta. Però no, perché abbiamo fatto veramente bene, perché poi il modo come ci si arriva a tirare in porta, ci siamo arrivati sempre bene giocando, facendo delle grandi. Sì, poi è logico, è stato bravo il portiere un paio di volte, abbiamo preso una traversa, un gol è entrato, ci sono tanti episodi belli, c'è il rammarico, c'è tanta rabbia, c'è tanta... Gli ho detto ai ragazzi di stare con la testa alta perché abbiamo fatto una grande prestazione, alla seconda giornata di campionato non me l'aspettavo nemmeno io sinceramente. Quindi andiamo via da Chiedi con grande certezza, siamo rammaricati e dispiaciuti del risultato perché abbiamo perso. Però se io faccio l'allenatore e devo analizzare la partita nei 95 minuti vado via da Chiedi molto soddisfatto perché ho visto veramente grandi cose. Quando una squadra forte che è partita per vincere il campionato, perché dall'inizio che parlano e dicono che devono vincere il campionato, quindi vuol dire che se noi abbiamo fatto un tipo di prestazione a Chiedi con una squadra forte che deve vincere il campionato, io non sono più che contento. Poi siamo nella seconda giornata, c'è un mare da giocare, un mondo di partite, però me ne vado via, ripeto, soddisfatto della prestazione fatta dalla squadra. Bene perché siamo andati alla conclusione con Guali un paio di volte, siamo andati alla conclusione con Sarrizzo, con Bacio Terracino. Oggi chi ha sofferto un pochettino di più è stato Galesio, Luis che forse, sì, ma può capitare, è un giocatore di struttura, un giocatore che deve essere servito in adericore, però poi sono contento di come è entrato Jonathan, sono contento di come è entrato Carbonelli, tutti quelli che sono entrati, quindi siamo sulla strada giusta. Ripeto, andiamo via con grande rammarico perché perdere una partita del genere veramente ti fa stare male perché meritavi, perché poi ci sono le cose che si merita e non si merita. Oggi penso che la mia squadra meritava molto di più di questo risultato. Ma Banegas per noi è un giocatore fortissimo, però oggi alla seconda giornata poteva anche giocare perché aveva un piccolo risentimento. Rischiarlo la seconda giornata avendo dei sostituti bravi era da matti, quindi l'abbiamo preservato e da martedì sta in gruppo e lo avremo per domenica prossima. Questo è frutto del lavoro della società perché abbiamo fatto veramente un organico importante. Sì, ma è una soluzione che noi abbiamo, l'abbiamo costruita proprio in questa maniera. Il rostro della squadra ci permette di cambiare modulo anche in funzione della gara perché poi vedevo a un certo punto della partita che il Chieti non ci impensieriva più, perché poi hanno fatto qualche ripartenza ma non ci creava più niente nella nostra metà campo. Ho rischiato di mettere tre ragazzini dietro, portiere quattro e ho cercato di fare l'attacco finale. Ma poi, ripeto, sono contento perché abbiamo i due moduli, li sappiamo fare, abbiamo giocatori importanti che stanno a giocare in tutti e due moduli perché anche Carbonelli oggi è entrato, ha fatto benissimo e sono contento, vado via, solo ho rammaricato il risultato. Mi dispiace sinceramente per i ragazzi, mi dispiace molto per i tifosi che sono venuti qua oggi, che ne erano tantissimi, ma devono essere orgogliosi della propria squadra perché oggi hanno fatto una grande partita. Li abbiamo rappresentati in tutto e per tutto, fa parte della crescita di una squadra perché poi perdere quando meriti di vincere ti fa stare con la testa bassa però orgoglioso del lavoro che stiamo facendo. Quindi i tifosi devono essere in primis orgogliosi di noi perché poi abbiamo fatto tutto noi stessi. Poi purtroppo oggi la Dea Bendata ci ha girato un po' con le spalle ma il calcio poi ti dà e ti ridà. Siamo contenti, io ti ripeto, faccio l'allenatore, analizzo i 90 minuti, sono rammaricato dai primi 10 minuti però poi alla squadra sono contento perché il lavoro che stiamo facendo si vede. Noi siamo questi perché non abbiamo costruito una squadra di seconde palle o di guerra. Abbiamo fatto una squadra per cercare di giocare a calcio, abbiamo sempre la nostra identità, cerchiamo di arrivare a fare le cose come le sappiamo fare e poi se vogliamo essere proprio crudi una squadra che tira 8-9 volte in porta con un'occasione di gol clamorose che cosa ti devo dire? L'allenatore è solamente contento, quindi non è che si specchia, che gioca a calcio. Giocare a calcio delle volte può sembrare specchiarsi però credo che oggi noi abbiamo giocato bene non ci hanno mai sorpresi quando abbiamo perso palla, quindi siamo stati sempre bravi sulle marcature preventive. Dispiace perché poi va dentro una palla, magari la pareggiamo e poi la partita cambia, poi succede di tutto, possiamo ribaltarla. Però ripeto, alla seconda giornata io mi tengo la prestazione che è la cosa più importante. No, perché Brunetti nel riscaldamento si sentiva il quadricipio non bene, non benissimo e quindi ho cercato di farlo stare caldo perché se serviva per il momento giusto doveva stare caldo. Poi mi dispiace anche per Mastrone perché stavo in panchina e all'ultimo ho fatto questo cambio portandomi un difensore centrale perché se mi entrava Alessandretti rimanevo senza difensore centrale in panchina e mi dispiace per Mastrone perché stavo in panchina alle 3-10 e si è ritrovato in tribuna. Quindi mi dispiace per il ragazzo. Sì, è una cosa straordinaria dove abbiamo Banegas fuori, abbiamo Persiani fuori. Sono contento, io sono contento dei ragazzi, del gruppo che si sta creando, del modo di pensare tutti quanti insieme. Perché poi ho detto in settimana che il mio lavoro più duro è far giocare insieme giocatori forti. I giocatori forti di farli giocare insieme non è semplice. ci devi lavorare quotidianamente, li devi entrare dentro. Io ho dei ragazzi straordinari che mi seguono per tutto e per tutto. Veramente sono contento.